Dice questo messaggio, quanto ti è servito avere al tuo fianco artisti e prima di tutto amici già affermati come te, due Easy Arcomi? Ma ti dico, mi è servito, ma può essermi servito sicuramente come a livello di fanbase, a livello di propaganda. A livello artistico mi sento di dire che, dato che ci conoscevano tutti da prima, ognuno aveva sempre avuto il suo timbro, il suo stile, eccetera, eccetera. Prima che Mirko facesse uscire addirittura, non so, da Zensolle, c'era Gaston, ce l'ascoltavamo, cioè per dire, siamo sempre rimasti lì nella nostra stima reciproca. Quindi mi è servito a livello di fanbase, ma magari a livello artistico... Però siete un po' cresciuti con gli stessi gusti. Certo, come famiglia artistica è importantissimo, è importantissimo.